Leonardo Bambini, presidente del Trestina, brucia e tanto il pari con il Villa Biagio. Gol allullato, sinceramente non abbiamo capito il motivo. No, non l'ha capito nessuno e abbiamo rivisto subito le immagini. Il gol era regolarissimo, il gol di Tempesta, però è una costante quest'anno. E' dispiaciuto questo pareggio col Villa Biagio, anche se, devo dire, contro una squadra sicuramente quotata, fortissima, che lotterà fino alla fine, ma probabilmente verrà fuori dai bassi fondi. Come brucia il pareggio del San Donato molto di più 15 giorni prima, perché lì veramente avevamo, se finivamo il primo tempo con 3-4 gol di scarto, era il giusto. Purtroppo due pareggi arrivati al novantesimo, che lasciano ovviamente un amaro in bocca notevole. Bisogna comunque non perdere fiducia dei nostri mezzi, non possiamo assolutamente perderla. Dobbiamo crederci, perché i ragazzi scendono in campo tutte le domeniche motivati e credo che non gli posso veramente rimproverare nulla. E perciò andiamo avanti così, cercando, se possibile, adesso proprio con l'este aperte, di dare ancora, se troviamo qualcosa di giusto, qualche rinforzo al nostro allenatore. Noi continuiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché Mancini è rientrato e sta già facendo la differenza. Polito sembra che potrebbe rientrare e c'è anche da fare una considerazione. La tua squadra non si arrende mai. E al netto degli errori arbitrali e di qualche episodio, diciamo così, un po' colpa della sfortuna e magari del momento particolare, può veramente fare un campionato diverso nel girone di ritorno. Ma dovrà per forza fare un campionato diverso, perché noi ovviamente il nostro obiettivo è a questo punto giocarci play-out con squadre, mi auguro toscane, vedi Colligiana, San Giovannese, San Donato, poi Spoleto, Villa Biagio, Bastia, sono come noi Umbre e cercheremo meglio evitarle. Anche perché sono squadre che abbiamo già incontrato e credo che siano largamente alla nostra portata. Quindi questo cercheremo di fare. Sotto l'albero troviamo il derby tra Sansepolcro e Trestina. Di solito Sansepolcro è un campo dove fa piacere giocare, ma non ha mai portato niente di buono a noi. Speriamo, auguriamoci magari che quest'anno sia la volta buona di portar via qualcosa.